Buongiorno, vuole presentarsi e presentare la sua azienda? Con piacere, buongiorno a lei, mi chiamo Francesco Fanciugli e sono il Managing Director di K4G Advisory Hub. Qual è la specializzazione con la quale vi presentate al network? Noi ci proponiamo come business partner specializzati in servizi di consulenza aziendale e formazione manageriale. Per quale è la geografica? Operiamo prevalentemente in Lombardia, ma siamo aperti a partecipare ai progetti un po' in tutta Italia, a supporto delle piccole e medie imprese. Molto bene. Le chiedo adesso se vuole descrivere la vostra attività in cinque parole chiave. Ma guardi, con piacere, direi che parole chiavi sono un po' competenza, professionalità, passione, intelligenza gestionale, flessibilità. Siamo principalmente degli advisor, quindi suggeriamo ai nostri clienti delle strategie operative per supportare il loro processo di crescita in mercati che sono sempre più complessi e difficili da leggere. Siamo inoltre dei formatori molto appassionati. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di condividere con il loro management il nostro ricco contenuto esperienziale di gestione e soluzioni di successo che abbiamo adottato nella nostra precedente vita lavorativa, oltre 30 anni di management nelle grandi e medie multinazionali italiane ed estere e cerchiamo di trasfondere al loro management di quei principi operativi che possono aiutarli nella soluzione di problemi un pochettino più complessi. Ci pace inoltre trasmettere in aula quella stessa passione che ci ha sempre contraddistinto poi nella gestione delle sfide operative nelle aziende che abbiamo avuto il privilegio di dirigere in passato. Molto bene, la ringrazio. Ne vuole adesso descriverci, dirci i tre motivi per i quali voi potete essere utili ai nostri partner e ai loro clienti? Certamente, ma innanzitutto possiamo aiutarli a decodificare la realtà di mercato all'interno del quale operano a come? Attraverso un servizio di market intelligence del quale siamo fiere appunto di proporre soluzioni estremamente innovative all'interno dei nostri mercati di riferimento e dando in seguito quei consigli di sviluppo strategico che escono fuori dalle evidenze della lettura dei mercati. Infatti, una volta decodificati i mercati, possiamo aiutarli a intervenire ed individuare le migliori opportunità di crescita e le strategie operative più efficaci per coglierle. Infine, passando dalla vision alla mission, possiamo un po' supportarli nel processo esecutivo sia attraverso percorsi di business coaching mirato che di sviluppo delle capacità interne attraverso dei processi di formazione professionale al loro management team oppure alle persone che l'imprenditore vuole educare per una possibile successione futura. Molto interessante. Le faccio adesso l'ultima domanda. Per quale motivo avete deciso di aderire a Partner 24 Ore? Beh, guardi, essere partner del 24 Ore è una garanzia di autorevolezza, di competenza, di qualità, dei servizi offerti in relazione ovviamente alla propria specializzazione. E inoltre per noi un'occasione importante per sviluppare un network di conoscenze e competenze che possano integrare le nostre e questo evidentemente ci dà la possibilità di offrire al mercato soluzioni sempre più complete e distintive che possano qualificarci ulteriormente. Quindi direi molto felici della scelta fatta e ci auguriamo che poi possa portare a nuove relazioni di business sempre più profigue. Molto bene. Allora la ringrazio molto e le auguro una buona giornata. Grazie a lei e buona giornata. Grazie a lei e buona giornata.